Lo Stato sta dispiegando tutti gli sforzi necessari per contrastare efficacemente l'emergenza criminalità a Sansevero, soprattutto dopo gli spari di sabato sera contro un furgone della polizia. Oltre alle misure urgenti concordate dal sindaco direttamente con il ministro Minniti, le forze dell'ordine in azione congiunta stanno dando la caccia all'uomo che ha sparato tre colpi di pistola contro il mezzo dei poliziotti. Gli inquirenti stanno seguendo diverse piste, probabile che presto ci sia una svolta. Intanto le attenzioni del governo alla situazione di Sansevero sono sempre alte. Ieri a Foggia lo ha affermato anche il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, a margine di un incontro con gli studenti. Roberti, l'emergenza criminalità a Sansevero l'ha legata anche allo sgombero del ghetto di Rignano. È un segnale molto forte, molto importante per l'affermazione della legalità. È un momento di svolta, ha detto il procuratore. Sansevero continua ad essere blindata, potenziato l'organico delle forze dell'ordine. In azione anche uomini in borghese nelle vie del centro e nelle vicinanze degli esercizi commerciali, mentre il fronte istituzionale e politico è impegnato nella definizione dell'iter per il dipartimento della direzione investigativa antimafia. Nei prossimi giorni inizieranno anche i lavori per potenziare l'attuale sistema di videosorveglianza.